Una comunità che riparte dopo la pandemia, una comunità viva e dal vivo, quella di Teramo, che sceglie la cultura per ricominciare a stare insieme. E lo fa con il teatro e una nuova stagione di prosa, curata da ACS Circuito Spettacolo Abruzzo e Molise, che con cinque appuntamenti, da marzo a maggio prossimo, al teatro comunale, farà di Teramo la capitale del teatro moderno. L'edificio teatrale evidentemente non è soltanto il palcoscenico, non è soltanto il luogo di incontro mondano, ma è anche un retropalco, dove ci sono strutture, ci sono sale, ci sono luoghi dove gli artisti, tanti in Abruzzo e tanti bravi e giovani anche, devono trovare un luogo dove incontrarsi, dove proporre. Dobbiamo tornare ad essere una collettività in tutti i sensi e questo speriamo possa essere il compito del nuovo ACS. Ognuna delle cinque proposte della prossima stagione di prosa al teatro comunale di Teramo affronterà temi sociali duri e impegnativi, come Misericordia, testo scritto e diretto da Emma Dante, o Museo Pasolini con Ascanio Celestini. Lei ha parlato di nessuna vanità, ma di contenuti importanti. Sono ovviamente realtà teatrali molto importanti, che hanno però un filo conduttore. Ogni operazione che loro portano avanti è sempre finalizzata alla valorizzazione dei contenuti che il teatro sa proporre. Contenuti importanti, professionalità altrettanto importanti, ma che sono tutte al servizio di questi temi, perché sono temi estremamente poetici, temi che avranno a che fare con problematiche sociali, dell'inclusione, dell'esclusione, temi legati all'amore, al rapporto, al bisogno di evadere dalla realtà. Tra le novità di questa nuova stagione teatrale ci sarà il legame stretto tra cultura e sociale. Intanto si è partiti dalla partecipazione attiva di istituzioni e associazioni del territorio che concorreranno alla programmazione degli spettacoli. Una sfida che faccia della cultura uno degli elementi aggreganti per rinsaldare quella che è la nostra comunità, farlo attraverso dei canali che sappiano avvicinare tutte le generazioni al mondo della cultura in tutte le sue sfaccettature. Questa è stata la sfida di ACS. Noi come amministrazione comunale ci siamo. Siamo altrettanto orgogliosi di aver visto oggi in platea questa conferenza stampa tutti gli attori culturali della città a segnale proprio di una ripartenza e di una rigenerazione secondo canali e canoni diversi rispetto al passato, una interazione, un rapporto sinergico tra tutte le realtà del territorio e quindi evidentemente a dimostrazione del fatto che Teramo è pronta a cogliere la sfida per il futuro. Grazie a tutti.